Qui la comunità c'è, c'è stata, c'è molto abitato il territorio, però mancava il luogo di culto, anche se Cannizzaro la parrocchia a due passi, ma la gente sentiva come proprio in questa parte del nostro territorio la necessità di avere un luogo che gli appartenesse, nel quale i bambini giocassero, le persone si incontrassero. Allora avevamo del terreno e allora piano piano, lentamente, la generosità della gente intanto ha messo questa prima base, cioè una chiesa all'aperto. Speriamo quanto prima che si edifichino anche le mura, in modo da avere anche una piccola chiesetta in muratura. Speriamo. Grazie a tutti. Santa Madre di Dio. Dopo Pentecoste, prima, domenica prossima, del Corpus Domini. E' una festa... La pena e la fatica... ...dificio per voi. ...presso l'organo una terza fila. ...corpo mistico di Cristo... ...cosco... ...ci condurrà... Alziamo le candele... ...sospirato... ...lito... ...ma... 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 ...dipende... ...dil cuore... ...tu... ...dipende... ...dipende... ...dipende...